la seguente testimonianza è tratta dal libro di padre alessio parente intitolato mandami il tuo angelo custode alle pagine 171 e 172 ecco che cosa scrive padre alessio parente padre permettetemi di raccontarvi una piccola storia scrisse un mio amico due o tre mesi fa una giovane nostra collega di lavoro mandò uno scapolare da lei poggiato sul guanto di padre pio a suo fratello che doveva subire un serio intervento chirurgico si temeva infatti che fosse affetto da cancro l'uomo a quel tempo non conosceva padre pio ma portava indosso lo scapolare l'operazione fu un successo nessun cancro grazie a dio ed ora è già tornato al lavoro lavoro a sodo ed anche fino a notte inoltrata una notte mentre tornava a casa verso le 11 si ruppe la macchina lungo una strada buia molto distante da casa tentò anche di fare l'autostop per due ore ma nessuno si fermò cominciò allora a pregare padre pio immergendosi a tal punto nella preghiera da non notare un camion fermarsi davanti a lui venne fuori l'autista a chiedergli cosa non andasse e a dare uno sguardo alla macchina che ripartì subito anche se viaggiavano per direzioni opposte e l'uomo abitava molto distante il camionista insiste per accompagnarlo a casa fino davanti al portone e senza alcuna ricompensa dio benedica padre pio per le meraviglie che ancora continua a compiere grazie per aver ascoltato questo video alla prossima